oggi voglio darti una brutta notizia non è sufficiente aprire un blog o quanto meglio non è sufficiente creare dei buoni contenuti per il tuo blog molti mettono i contenuti al primo posto della lista delle cose da fare per avere successo con il tuo blog i contenuti restano il punto di riferimento per il tuo blog nel senso che è fondamentale nel senso che non puoi vivere o comunque il tuo blog non può vivere senza dei buoni contenuti ma non è sufficiente questo non è sufficiente scrivere degli ottimi contenuti per avere successo quindi cosa ci vuole di cosa ha bisogno il tuo blog in primo luogo ha bisogno di una strategia tu devi capire perché hai deciso di aprire il tuo blog non basta aprire non basta semplicemente scegliere un nome che è importante non basta scegliere un argomento che è altrettanto importante tu devi capire perché vuoi aprire il tuo blog qual è la tua strategia qual è il fine ultimo come vuoi guadagnare con il tuo blog ci vuole una strategia ci vuole un'idea ci vuole una visione ci vuole un concetto più alto ma soprattutto deve avere uno strumento per monetizzare nel senso che se tu scrivi i tuoi articoli ma non hai un funnel non hai una landing page non è un qualcosa che in fin dei conti poi ti porta a monetizzare che scrivi qual è l'obiettivo finale molti credono che sia sufficiente scrivere apri blog vado su wordpress prendo il dominio poi scrivo e ma non guadagno e ma come guadagno e ma non monetizzo non fatturo non ci sono i soldi e magari è tutto un imbroglio no non è tutto un imbroglio nessuno ti sta imbrogliando devi semplicemente procedere per step ben definiti deve avere un'idea devi avere una strategia devi avere un blog devi avere uno strumento per monetizzare può essere una landing page può essere un ebook che tu regali in cambio di un contatto per poi creare un percorso di email marketing può essere un infoprodotto ma tutto questo deve essere chiaro devi avere l'idea devi avere blog e deve avere lo strumento per monetizzare che ci sono un'idea devi avere un'idea devi avere un'idea devi avere un'idea di